E quando tu perdi, non dico la capacità di amare, perché quella si recupera, la capacità di sentirti amato, non c'è speranza. Hai perso tutto. Ci fa pensare allo scritto nella porta dell'inferno dantesco. Lasciate la speranza. Hai perso tutto. Questo Signore che è tanto grande, tanto amoroso, che nella sua gratuità vuole riempire la casa. Chiediamo al Signore, ci salvi di perdere la capacità di sentirsi amati. Grazie.